E' l'imbarcazione Genova di Ettore Frangipane della delegazione di Portopalo della Lega Navale, la vincitrice della veleggiata di ottobre, la manifestazione velica che si è svolta ieri a Sciacca, organizzata dalla locale sezione della Lega Navale come ultimo evento della stagione estiva. La competizione, promossa dal Circolo Saccense e presieduto da Giuseppe Di Giovanna, è stata molto partecipata con ben 18 imbarcazioni in mare provenienti da Mazzara del Vallo, Menfi e Sciacca. Il campo di regata, sulla distanza complessiva di 6 miglia, è stato quello di Coda della Volpe, che ha dunque offerto la possibilità ad appassionati e nonne di ammirare le imbarcazioni dalla zona termale. Sono state disputate due prove, alla fine la spuntata Frangipane che ha preceduto gli equipaggi Babalù di Aldorossi e pure di Ascanio De Gregorio. La regata, coordinata da Nicolo Asaro, Giovanni Palagonia e Vittorio Busalacchi, coadiuvati da Filippo Barne e Filippo Balistreri come posabua in mare e a Cursio Sabella alla base nautica, ha avuto come obiettivo anche quello di valorizzare e promuovere gli sport e la cultura del mare.